Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti e grazie per essere qui. E' tutto il giorno che il Presidente del Consiglio Renzi, che ormai è ossessionato dal Movimento 5 Stelle, non fa altro che attaccare e continuare a dire che dove amministriamo abbiamo dei problemi. Ovvio che abbiamo dei problemi. Ci hanno lasciato i comuni in dissesto finanziario, si sono divorati qualsiasi cosa, ma nonostante le loro porcate stiamo riscendo ad introdurre il reddito di cittadinanza. Stiamo diminuendo il debito, stiamo riducendo le tasse comunali a partire dalle tasse su rifiuti e stiamo poco a poco nei comuni dove amministriamo abolendo Equitalia. Noi lo stiamo già facendo. Certi attacchi che arrivano da persone che hanno scolpato questa città, che sono irresponsabili davvero delle violenze che sono state poi commesse a danni di questa città meravigliosa, di questa Roma stupenda. Gli attacchi provengono da questi soggetti. Evidentemente se questi soggetti sono così intimoriti di una possibile vittoria del Movimento 5 Stelle, la strada è quella giusta. Cittadini di piazza del popolo, ho l'onore di presentare la nostra candidata a sindaco di Roma, Virginia Racci. Ci siamo, ci siamo. Ciao. Ci siamo, sta per iniziare una grandissima festa. Passo dopo passo in questi tre mesi ci siamo avvicinati sempre di più al Campidoglio. Adesso inizierà una bella festa di piazza, ci saranno tanti artisti e vi do una piccola anticipazione. Abbiamo qui tra noi l'ultimo, Davide Donatello, attore protagonista, Claudio Santamaria! Ammazza quanti siete! Buongiorno a tutti, siamo qua per sostenere Virginia, anch'io sostengo Virginia e più tardi canterò qualcosa, così, per divertirci un po'. Basta, me ne vado. Ciao a dopo! Chiamate gli amici che sono a casa, che non sono venuti, ditegli di venire. Grazie.